Salve a tutti carissimi cinefile e carissime cinefile, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora oggi voglio parlarvi di un film del 2019 intitolato Doctor Sleep ed è firmato dal regista Mike Flanagan, che per inciso è anche lo sceneggiatore di questo film, che è l'adattamento cinematografico di un romanzo scritto da Stephen King, famosissimo autore horror di fama internazionale, che ha appunto realizzato questo Doctor Sleep che è il seguito di Shining, anche questo romanzo dello stesso King, appunto famosissimo, diventato ancora più noto grazie ad un altro film che penso abbiate visto un po' tutti, cioè Shining del 1980, firmato da un grandissimo artista del cinema, quale è stato appunto Stanley Kubrick. Premetto che farò degli spoiler, quindi se ancora non avete visto il film in questione e non volete sapere nulla in anticipo, tornate in un secondo momento. Dunque, Doctor Sleep, esattamente come il libro, è il continuo del film di Kubrick, quindi sgombriamo subito il campo da qualsiasi tipo di dubbio. Non si tratta di un film che è un seguito apocrifo, che semplicemente ha qualche rimando all'opera Kubrickiana. No, è proprio un seguito di Shining, è fortemente ancorato a quella pellicola e quindi diventa inevitabile fare dei riferimenti, fare dei paragoni con quel film. Ovviamente, insomma, il buon Flanagan aveva sulle proprie spalle una responsabilità non indifferente, perché, insomma, se tu vai a realizzare un lungometraggio che ha a che fare con un titolo come Shining, beh, è una bella sfida quella che devi affrontare e devi sicuramente fare del tuo meglio, quantomeno, non di certo per metterti allo stesso livello di Kubrick, però per fare quantomeno bella figura, perché ci si aspetta comunque qualcosa da un seguito di Shining, di cui io sinceramente non avevo bisogno. Metto subito le cose in chiaro. Non sentivo la necessità di un seguito a Shining, secondo me era una storia che si era conclusa nella maniera giusta, migliore, con quella istantanea, molto enigmatica, molto anche inquietante, di Jack Torrance, che si trova fra i membri di questa alta società che partecipano a questo ballo del 4 luglio del 1921, insomma, una cosa perfettamente in linea con il film che non ha nessuna pretesa di realismo, un film dall'anima fortemente onirica, surreale e quel finale che è un bellissimo omaggio al carretto fantasma di Hoestrom era perfetto, racchiudeva l'essenza del film e chiudeva perfettamente la storia di Jack Torrance all'Overlook Hotel. Il film di Flanagan, cioè Doctor Sleep, ci mostra gli eventi partendo da principio proprio subito dopo, cioè gli eventi raccontati partono dal 1980 e siamo poco dopo la fuga di Daniel e della madre di Wendy. Loro si sono trasferiti in questa cittadina, stanno elaborando, o meglio il figlio sta elaborando la pessima esperienza vissuta all'Overlook Hotel, mentre invece la madre non sembra essere chissà quanto inquietata da ciò che è avvenuto, ma il film in realtà parte ancora prima, cioè ci mostra un altro personaggio, cioè ci mostra un personaggio enigmatico, quello di Rose, che praticamente sembra essere una sorta di figlia dei fiori, non so, a questo look che mi ricorda un po' il gruppo dei Leonard Skynard o Linda Perry dei Four Non Blondies, e la vediamo alle prese con una bambina di nome Violet, la quale viene avvicinata e aggredita poi da questa ragazza e da questo gruppo che improvvisamente esce fuori dal bosco e la assalgono. Poi abbiamo appunto Danny, si parte con le citazioni, c'è il sogno del bambino che si ritrova nella camera famosa 237 dell'Overlook Hotel, agli incubi gli spiriti dell'Overlook Hotel continuano a perseguitare Danny, in particolare la signora anziana e cadente della vasca da bagno. Insomma, tutto questo lo sconvolge, lui è affetto da mutismo, c'è il signor Halloran, il cui spirito continua a persistere e sostanzialmente rappresenta una sorta di spirito guida per Danny, che in stile il sesto senso parla con l'anima, con il morto, insomma, Halloran, il quale gli dà un consiglio, insegna sostanzialmente un metodo per liberarsi di questi fantasmi, degli spiriti dell'Overlook Hotel che continuano a perseguitarlo. Passano gli anni, Danny diventa un adulto problematico, anche lui soffre di alcolismo, lo stesso problema che aveva il padre Jack Torrance, vive di espedienti, di rapporti occasionali. Dopo l'ennesima bravata, a chiamarla bravata perché poi penso che si rivelerà essere molto più grave di una semplice bravata, decide che la sua vita insomma fa schifo, che non può continuare a stare in quelle condizioni, decide di scappare, di andarsene via. Raggiunge appunto questa cittadina dove ricomincerà da capo, grazie all'aiuto di un buon samaritano che lo accoglie, lo introduce a un gruppo di alcolisti anonimi e da lì riprende la sua vita, ricomincia la sua risalita. Consideriamo che nel frattempo lui durante la notte ha un sogno o un incontro mistico con le anime di due personaggi che lui aveva precedentemente incontrato quando si trovava ancora nell'altra cittadina, cioè una ragazza con cui ha passato la notte e il figlio di quest'ultima, lui li ha lasciati lì, sembra che poi in realtà la giovane donna fosse morta, annegata nel suo stesso rigurgito, nel suo stesso vomito, visto che entrambi erano ubriachi, drogati, insomma abbastanza stonati e il figlio era rimasto lì, insomma lui lo aveva preso, l'aveva messo accanto alla mamma, lui pensava che stesse dormendo e se n'è andato e pare che invece la mamma fosse morta, il bimbo quindi è morto di sete, di inedia e la responsabilità è sua perché li ha lasciati lì e quindi lui cerca anche questa sorta di redenzione. Però il film non si sviluppa su un unico binario, ma appunto su tre linee narrative, sono tre sottotrame che poi andranno ad intrecciarsi, quindi abbiamo la storyline di Danny, poi abbiamo quella di Rose che è in realtà la prima ad essere presentata, nel corso del film noi scopriamo che questa persona è una cacciatrice di portatori di luccicanza perché scopriamo che chi possiede la luccicanza come Danny e come ce l'aveva Halloran praticamente loro si nutrono di questa loro essenza, di questa loro luccicanza. Rose ha un gruppo di persone che si spostano continuamente per cacciare queste loro prede, far uscire la luccicanza sotto forma di vapore, di soffio vitale e lo aspirano, lo inalano, se ne nutrono, fanno un po' come fanno i vampiri o i che ne so, i dissennatori, a me hanno fatto ricordare molto i dissennatori di potteriana memoria e all'occorrenza immagazzinano anche questo vapore, questa luccicanza in dei contenitori che sembrano essere dei termos, quindi loro si nutrono del potere delle persone speciali, ok già questa cosa mi ha fatto un po' storcere il naso, e l'altra, l'ultima sotto trama è quella legata ad una ragazzina afroamericana di nome Abra, la quale ha anche lei la luccicanza, ha questo potere estremamente forte nonostante sia una ragazzina piuttosto giovane, ha queste capacità pazzesche dove si va addirittura nella psicocinesi oltre che nella telepatia, ad un certo punto lei diventa il bersaglio di questo gruppo di cacciatori di luccicanza. Cosa succede? Che lei, cioè la ragazzina Abra, si ritrova a stabilire un contatto prima con Danny, tutto a distanza ovviamente, con Danny e poi con questo gruppo in occasione dell'omicidio di un giovane che stava giocando a baseball dove tra l'altro in quella scena troviamo un cameo dell'attore che aveva interpretato Danny nel film Shining di Kubrick, per intendersi è quello che dice questo ragazzo riesce sempre a battere una valida alla prima, è come se vedesse le cose in anticipo vedrai, farà strada, insomma sarà presto notato, è quell'attore lì col cappello, il pizzetto lui è, e tra l'altro si riconosce anche abbastanza bene, è rimasto un po' quello sguardo che aveva da bambino nel film Shining e quindi un dettaglio simpatico, ma insomma il gruppo di Rose rapisce questo ragazzino lo uccide brutalmente, gli toglie la luccicanza, lì Abra se ne accorge, cerca di aiutarlo a distanza, non ci riesce e quindi comunica questo dolore, questo evento tragico, questo omicidio efferato a Danny scrivendo appunto sulla parete della sua stanza Murder, lui lo legge ovviamente al contrario che è Red Room ma poi nel verso giusto è Murder, cioè assassinio. Abra poi decide di incontrare Danny, loro si incontrano e diventa insomma una lotta per poter contrastare il gruppo di Rose che sta andando appunto a prendere Abra e il suo potere consideriamo anche il fatto che per questi esseri assorbire la luccicanza significa anche allungare la propria vita significa per loro una sorta di elisir di lunga vita, quindi ne hanno bisogno per poter allungare la loro permanenza su questo mondo il film sostanzialmente è questo, un film dove poi tutto convergerà nell'overlook hotel riescono a fare un agguato a questi assassini itineranti, li fanno fuori con le armi da fuoco una sparatoria un po' non so, stile western se vogliamo che insomma secondo me è un po' buttata a caso un espediente che francamente non ha chissà quale fascino sarebbe stato secondo me più interessante invece assistere ad una sorta di battaglia mentale come poteva essere stata per esempio quella messa in scena da Cronenberg in Scanners sarebbe stato molto più suggestivo poi comunque il film alla fine è inquinato, pesantemente condizionato da questa vena supereroistica alla fine il film richiama molto agli X-Men, agli eroi della Marvel il personaggio stesso di Abra potrebbe essere tranquillamente non so, accostata ad una Jean Grey per dire il gruppo di Rose mi ricorda molto la fratellanza dei mutanti messa in piedi da Magneto il tutto è stato realizzato in questo modo, è stato concepito come se fosse appunto lo scontro fra i mutanti buoni e i mutanti cattivi è stato tutto banalizzato la luccicanza stessa è stata ridotta a superpotere quando invece insomma nel film di Kubrick era la manifestazione dell'incomprensibile era come dire qualcosa che aveva a che fare con il talento puro, nascosto e che definiva veramente la specialità di un ristrettissimo gruppo di persone era qualcosa che aveva a che fare con la spiritualità non era un volgare superpotere che ti faceva volare che ti faceva spostare le cose e che ti rendeva overpower cioè era un qualcosa che contribuiva a dare un certo tipo anche di ambiente contribuiva a costruire quel senso di inspiegabile che era perfettamente funzionale all'atmosfera orrorifica di Shining qui invece la luccicanza come superpotere da sniffare e da mettere nei termos no, cioè francamente è una banalizzazione di questo elemento veramente disarmante e poi il film non riesce ad essere ben amalgamato non riesce a dare importanza a certi elementi che secondo me invece avrebbero meritato una presentazione differente per esempio il titolo del film che è Doctor Sleep questo nome, o meglio questo soprannome che scopriamo essere di Danny viene dato in una scena del film perché Danny a un certo punto trova lavoro come inserviente in questa diciamo casa di cura dove gli anziani insomma sono ricoverati e stanno per morire lui dà conforto a queste persone e cerca di farle trapassare nella maniera più dolce e pacifica possibile in un certo senso questo è il debito che lui sta saldando per la condotta di vita che aveva tenuto prima dell'inizio del suo percorso di redenzione e per caso lui inizia questa attività e il paziente che insomma sta per morire c'è tutto questo discorso legato alla morte a cosa c'è dopo, il sonno eterno eccetera ecco, e lì l'anziano signore lo chiama Doctor Sleep così è una cosa buttata un po' a caso di cui poi non si parlerà mai più perché Danny viene chiamato Doctor Sleep solo in quel frangente e basta quindi che senso ha? nessuno, cioè aveva molto più significato allora se questo soprannome emergeva nel corso del tempo cioè un qualcosa che era il frutto di una sorta di immagine che si era formata e sedimentata nell'immaginario collettivo di quell'ambiente cioè le persone che sanno che tu lavori lì e che hai questo ruolo che ti sei dato e che ti viene in qualche modo riconosciuto ecco che viene soprannominato Doctor Sleep ecco sarebbe stato molto più affascinante invece no, viene detto in un'occasione accennato appena rimane confinato in quell'episodio e basta e non se ne parla più e spesso il film ha appunto momenti che sono staccati io non so se questo è di peso dal fatto che io non ho visto la Director's Cut che è di 180 minuti io ho visto il film nella versione cinematografica da due ore e mezza forse due ore e trentadue insomma siamo lì comunque film che dura tanto e però risulta abbastanza slegato diviso in compartimenti stagni poco legato le vicende, le scene che si susseguono hanno pochi legami con gli eventi che vengono precedentemente descritti e la storia zoppica zoppica perché ci sono momenti in cui la scrittura è abbastanza fallace si vede che non c'è lo sforzo di costruire qualcosa che riesca ad essere abbastanza affascinante che riesca a creare un'atmosfera ancora più coinvolgente un minimo coinvolgente un'atmosfera che sia veramente horror questo dipende dalla scrittura che non riesce a costruire delle situazioni in cui lo spettatore si spaventa in cui il terrore riesce a penetrarti dentro l'unica sequenza un po' più interessante a mio avviso è quella della morte del giovane giocatore di baseball che però alla fine risulta essere un po' fine a se stessa perché dopo il brutale omicidio Abra dice a Danny dove andare a trovare il corpo e questa cosa serve per recuperare un oggetto un guantone da baseball che è stato toccato da uno del gruppo di Rose e se Abra mette le mani su questo oggetto è in grado di vedere chi lo ha toccato e anche chi è vicino a lui quindi riesce a vedere i volti di queste persone che le stanno dando la caccia Danny e l'amico che lo ha aiutato quando aveva cambiato città era andato all'alcolista anonimo eccetera eccetera vanno in questo posto scavano, trovano il corpo del ragazzo assassinato recuperano l'oggetto e se ne vanno e ritornano da Abra e la drammatica vicenda del giovane brutalmente ucciso si chiude così cioè lui è stato una vittima una delle tante vittime il cui unico scopo narrativo è stato quello di recuperare un oggetto per poter vedere gli avversari per far conoscere a un'altra potenziale vittima l'identità dei suoi nemici e fine cioè il corpo non si sa se rimane lì se è stato nuovamente ricoperto se è stato denunciato il tutto alla polizia se il ragazzo è stato definitivamente riesumato consegnato alla famiglia e gli è stata data la mia sopoltura cioè niente perché mi soffermo su questo perché trattare un personaggio per quanto secondario, marginale, eccetera in questo modo significa sminuire una scena su cui ti sei soffermato parecchio perché la sequenza della sua morte è molto articolata e si capisce che quello è diciamo un momento su cui si punta molto per poter far provare grande angoscia grande tristezza raccapriccio allo spettatore però se la cosa poi finisce lì e in seguito non si dà un po' più di risalto non si dà un po' più di rispetto alla storia di questo povero ragazzo ma lo si utilizza semplicemente come oggetto come espediente per trovare un qualche cosa cioè appunto un oggetto che serve ad un altro personaggio e basta cioè allora tutto quello che hai fatto vedere prima perde di significato perde di forza e lega male con il resto del film perché allora dopo il ritrovamento del guantone si poteva visto che il film si dilunga tantissimo su tante cose è prolisso bastava allora mettere una scena un pezzetto dove si vede Abra che guardando la televisione per esempio c'è il notiziario dove si parla del ritrovamento del corpo di questo ragazzo che la famiglia insomma gli ha dato degna sepoltura in qualche modo ecco si ha la conferma del fatto che lei è talmente potente da sapere dove si trova il corpo del ragazzo ma si dà anche la giusta dignità a quella povera vittima che è stata uccisa in quella maniera così efferata invece lasciare tutto così insomma no sinceramente non mi ha convinto non mi è piaciuto è una cosa buttata lì è una delle diverse cose che sono buttate lì e basta e un'altra cosa che mi ha lasciato abbastanza perplesso dal punto di vista della scrittura è come viene catturata Abra perché mentre Danny e il suo amico Freeman tendono una trappola al gruppo di Rose e li sterminano praticamente tutti Abra si trova ad agire a distanza in casa sua ora bisogna considerare che Rose con un viaggio mentale era riuscita ad entrare nella mente di Abra e aveva individuato l'abitazione della ragazzina era entrata soltanto diciamo nella sua stanza o meglio in quella che era la proiezione mentale della sua stanza lì c'è uno scontro dove tra l'altro si capisce perfettamente che Abra è molto più potente di Rose e quindi è vero che le altre zone le altre parti della casa Rose non le conosce però c'è un piccolo dettaglio sa dove si trova la casa va bene e questa informazione sicuramente è stata condivisa con il resto del gruppo quindi loro sanno dove andare anche se magari non ci sono andati tutti perché alla fine è il corvo quello che viene chiamato il corvo ad andare a recuperare Abra però non importa cioè si sa che lei abita lì nel momento in cui arriva Danny con Freeman e spiegano tutta la cosa al padre di Abra si dice chiaramente che il gruppo di Rose sta arrivando a casa di Abra e dei suoi per rapirla lo si dice chiaramente e quindi loro pensano di fare la trappola no? perfetto il fatto è che Abra simula la sua presenza in quel luogo che appunto deve essere il punto dell'agguato ma lo fa da casa propria cioè lei invece di stare in camera sua sta tipo in cucina in meditazione proiettando la sua immagine nel luogo dell'agguato ma sta in casa ferma cioè nel punto dove lei era stata localizzata scusatemi ma non aveva più senso fare questa cosa perché tanto lei è in grado di palesarsi con la mente da qualsiasi luogo cioè lei non ha problemi a utilizzare il suo potere anche in altre zone della città o del mondo non è che deve per forza stare in casa ecco non potevano magari andare in un altro posto evitare di stare in casa oppure ancora meglio viaggiare in macchina quindi lei faceva le cose spostandosi continuamente con il padre perché tra l'altro questa persona cioè non è neanche armata le armi se le sono portate dietro Freeman e Danny per ammazzare il gruppo di Rose quindi Abra è rimasta in difesa in casa con il padre che non serve a niente poveraccio infatti viene ammazzato come un idiota e Abra viene rapita poi sì c'è una scena anche abbastanza ganda secondo me di Danny che riesce a entrare nel corpo di Abra e a causare incidente quindi a eliminare il corvo e a liberarla però insomma è una una dinamica piuttosto debole piuttosto fallace è un errore secondo me questo abbastanza grosso perché si poteva comunque arrivare al momento del rapimento di Abra da parte di uno dei cattivi ma almeno si evitava di far sorgere nello spettatore una domanda più che legittima cioè ma perché invece di stare lì non vi siete spostati da un'altra parte visto che sapete perfettamente che stanno andando a cercarvi che sanno dove vi trovate vi stanno venendo a prendere ecco questa è una cosa che purtroppo la sceneggiatura non fa altra cosa che non ha il minimo senso è perché dopo che succede tutto quello che succede rimane soltanto Rose del gruppo dei dissennatori per quale ragione devono andare all'Overlook Hotel io ho capito che l'Overlook Hotel è pieno di spiriti e quindi ci saranno più difficoltà per Rose di orientarsi in quell'ambiente infestato e che forse ci saranno più possibilità di fuga però le difficoltà ci saranno anche per loro perché quel luogo è insicuro per chiunque non soltanto per Rose e poi non ha senso perché comunque Abra ha dimostrato chiaramente di essere più forte di Rose chiaramente e sono in due questa volta cioè loro sono anche in superiorità numerica rispetto a Rose che è vero avrà inalato tutta la luccicanza che vuoi però a parte che loro non lo sanno ma in ogni caso cioè loro sono esseri potenti in cui la forza della luccicanza è potente e per quale ragione avrebbero dovuto insomma temere così tanto Rose da dover andare addirittura nell'Overlook Hotel perché in questo film si fa tanto fanservice questo è fondamentalmente cioè il problema di Doctor Sleep è che ogni 3x2 ha questi rimandi continui al film di Kubrick sono anche i momenti in cui diciamo la regia riesce ad essere un po' più notevole perché insomma alla fine Flanagan riprende e ripropone le inquadrature che furono quelle di Kubrick vengono ricostruiti gli ambienti nello stesso modo per stuzzicare il ricordo dello spettatore che conosce Shining a memoria e però questo impigrisce la scrittura perché l'espediente narrativo di tornare all'Overlook Hotel non ha il minimo senso e serve semplicemente appunto per fare del citazionismo facile citazionismo che si manifesta anche in situazioni un po' così cioè per esempio quando c'è il colloquio tra Danny e il dottor Dalton che è interpretato da Bruce Greenwood lo studio del dottor Dalton è praticamente la stanza l'ufficio anzi del direttore dell'Overlook Hotel che intervista cioè che fa il colloquio a Jack Torrance in Shining ma cioè è una cosa buttata lì a caso semplicemente per fare del citazionismo come l'utilizzo anche dei brani della colonna musicale del film di Kubrick cioè anche lì bisogna riproporre questa cosa perché si deve per forza citare Shining anche lì che senso ha è una cosa fine a se stessa e ritornare all'Overlook Hotel è fine a se stesso far vedere il sangue che esce copiosissimo dalla tromba dell'ascensore con Rose che arriva e che ha diciamo il suo primo impatto con l'Overlook Hotel e che lei non rimane turbata da questo ma guarda questa scena che insomma aveva tutt'altro impatto se pensiamo al film di Kubrick lei guarda fa un ghigno fa un un sorrisetto così e prosegue ma cosa vuol dire quella scena cosa cosa vuol dire quel campo e contro campo non vogliono dire nulla se non semplicemente guarda ti sto facendo rivedere quel pezzo di Shining ti ricordi quando il sangue esce sì allora che vuol dire non vuol dire niente come tutta la parte in cui Danny ritorna sul luogo del delitto la porta spaccata ritrova il padre che fa la parte del barman cioè di Lloyd e tra l'altro l'unico attore perché i personaggi del film Kubrickiano sono stati reinterpretati cioè ci sono altri attori che impersonificano i personaggi che erano stati messi in scena dalla Duval da Nicholson ecco l'unico attore che veramente è adatto a interpretare la parte dei personaggi di Shining è il bambino è l'unico che veramente sembra Danny gli altri invece ci incastrano poco l'attore che interpreta Jack Nicholson cioè che interpreta Jack Torrance di profilo ci può ancora stare ma quando noi lo guardiamo frontalmente no non c'entra nulla anche Halloran in realtà ci sta l'attore che interpreta Halloran ci sta l'attrice che fa la Duval no no proprio la parte di Wendy non c'entra niente non c'entra assolutamente niente come non c'entra nulla la sua caratterizzazione cioè un personaggio che dovrebbe essere ancora sconvolto dovrebbe essere ancora segnato in qualche modo dall'esperienza che ha avuto no sembra proprio che viva la vita così come se niente fosse avvenuto e quindi un personaggio che per l'amor di Dio si vede pochissimo ma è di una piattezza assoluta proprio quindi citazioni che non hanno il minimo senso la macchina da scrivere la scena di nuovo delle scale con Danny che scimmiotta Torrance con l'accetta in mano cioè è tutto è tutto uno scimmiottamento infatti non è qualcosa che viene come dire inserito e contestualizzato e ben amalgamato con il film no è citazionismo fino a se stesso pure semplice che non vuol dire assolutamente niente e non c'è mai l'horror perché l'antagonista principale cioè Rose che è interpretata da Rebecca Ferguson non fa mai paura non spaventa mai nemmeno nemmeno per un istante è una donna bella attraente che assolutamente non ha nulla di orrorifico e il film non è mai orrorifico in realtà l'unica scena che ti può smuovere da questo punto di vista è la morte del ragazzo ma poi nient'altro e quando c'è lo scontro finale e Danny praticamente libera i fantasmi dell'overlook hotel perché insomma Alloran gli aveva insegnato questo modo questa tecnica di imprigionare gli spettri utilizzando la sua mente gli aveva tutti quanti messi all'interno di queste bare non so bene come abbia fatto ma la dobbiamo prendere per buona questa cosa quando viene aggredito da Rose gli sta succhiando la luccicanza ecco che lui libera gli spettri dell'overlook hotel i quali si manifestano aggrediscono Rose e la prosciugano questa cosa che è un po' alla Ghostbusters no? se vi ricordate verso la fine del film l'impianto di stoccaggio viene fatto esplodere quindi tutti gli spiriti tutti i fantasmi si liberano e fanno quello che fanno a New York ecco la stessa cosa avviene alla fine di questo film lui li libera aggrediscono lei ma poi aggrediscono anche lui appunto e poco prima lui aveva pronunciato questa battuta rivolgendosi a Rose eh ma tu non sai dove ti trovi con un sorrisetto ma quale sorrisetto? cioè sei nel luogo peggiore della terra dove hai vissuto l'esperienza più traumatica della tua vita e dici no ma tu non sai dove ti trovi cioè cos'è? una strizzatina d'occhio al pubblico? è una presa in giro cioè non non ha non ha senso cioè vuoi fare il figo ma risulti essere ridicolo perché non hai il senso veramente della storia sono queste cose che rendono becero questo film che non sarà il film più brutto della terra ma tratta la materia nella maniera più sbagliata possibile e gli spettri dell'Overlook Hotel che erano diciamo la manifestazione dell'insanità della follia che prendeva sempre più campo nella mente di Jack Torrance e questi spettri avevano a che fare appunto con la sua instabilità mentale con le sue paure con le sue ansie con il fatto che lui era un fallito su tutta la linea come genitore come coniuge come scrittore come lavoratore la febbre del chiuso la claustrofobia l'istinto omicida che prendeva sempre più piede dentro di lui cioè tutte queste cose tutte queste cose che erano state trattate da Kubrick con una maestria assoluta qui invece si riduce al fatto che anche gli spettri dell'Overlook Hotel sono dei dissennatori che vogliono succhiare la luccicanza che sono affamati di luccicanza una cosa di cui non si era mai parlato che viene aggiunta in questo film ma che non dice nulla anzi che appunto tratta la materia in modo becero e anche quando questi poi aggrediscono perché c'è c'è tutta la rimpatriata lì ci sono tutti tutti c'è il barman c'è gredi ci sono le due gemelline viene a giocare con noi c'è la signora della camera 237 insomma ci sono tutti e aggrediscono Danny che è ferito e che non può scappare ecco loro che alla fine non si capisce bene perché anche lì hanno prosciugato Rose mentre a lui lo hanno posseduto per quale ragione lo hanno posseduto e non lo hanno prosciugato come è successo con Rose visto che anche lui comunque ha la luccicanza non si sa lo hanno posseduto sembra che se lo vogliono mangiare e poi la cosa si riduce a cosa al fatto che Danny poi riesce a combattere questi spiriti va giù nella stanza delle caldaie fa esplodere tutto e finalmente si dà fuoco all'overlook hotel come avveniva nel libro di Shining e così si può far contento Stephen King che finalmente può dire oh questo film si veramente mi piace non come quella robaccia di Shining di Kubrick anche qui possiamo finalmente l'overlook hotel prende fuoco cioè questo a tutto questo si riduce la storia di Danny e il fatto che venga posseduto cioè che senso ha io non lo so e tra l'altro anche quella una scena che non mette assolutamente ansia ci sono nella storia del cinema delle scene in cui i personaggi diciamo vengono alla fine mangiati dai propri demoni interiori io quando ho visto quel momento in cui Danny viene circondato e aggredito dagli spiriti dell'overlook hotel mi sono ricordato di quando nel film L'ora del lupo di Bergman il pittore Borg alla fine del film viene aggredito e divorato da quelli che sono i suoi demoni interiori ecco quella scena è veramente inquietante non solo per come viene realizzata fatta di primi piani estremamente ravvicinati di gesti sferzanti con una fotografia allucinata pazzesca ma perché c'è stata tutta una costruzione che ha definito l'atmosfera e che ha fatto aumentare la tensione fino al culmine invece in quel momento che dovrebbe essere un istante veramente importante perché è Danny con i suoi fantasmi con le sue paure con il suo trauma multiforme che si è palesato davanti ai suoi occhi e che lo sta aggredendo ecco lì ci doveva essere una tensione pazzesca lì ci doveva essere veramente il senso dell'apice proprio di questo percorso narrativo della storia di questo personaggio non è assolutamente nulla di tutto questo il tutto risulta essere una semplice ebescera rimpatriata citazionista e basta nient'altro perciò un film che francamente non promuovo cioè è una una grossa delusione e il tutto poi si riduce ancora una volta ad essere semplicemente un film supereroistico perché poi quando Danny ritorna come forma puramente spirituale davanti ad Abra che lei poi è riuscita a uscire dall'overlook hotel che nel frattempo ha preso fuoco lei parla alla fine nella sua stanza con Danny il quale le dice di non nascondere il suo potere di far brillare la sua luccicanza ci sono altri come te nel mondo è praticamente X-Men ragazzi c'è poco da fare il film non fa altro che ribadire la sua vena supereroistica che è quanto di più incompatibile con la materia che era stata perfettamente sviscerata analizzata rappresentata dal grande Stanley Kubrick quindi un film che purtroppo segue questa moda di voler rendere appunto film del passato di volerli rileggere nella chiave da cine fumetto che è tipica dei nostri tempi ma il risultato è assolutamente scadente anche per esempio la fotografia di questo film secondo me non è stata azzeccata soprattutto quando ritorniamo nell'ambiente dell'overlook hotel le luci risultano essere in qualche modo calde e questo significa non aver capito l'essenza secondo me del film di Kubrick che invece aveva questa illuminazione a luce fredda che non dava nessun tipo di conforto agli occhi dello spettatore l'inquietudine si insinuava nel nostro animo anche attraverso il sapiente utilizzo di quella particolare luce vi ricordate per esempio il volto di Torrens illuminato da questa luce al neon se non ricordo male assolutamente fredda impersonale asettica che dava a Torrens quest'aria spettrale se non addirittura demoniaca con questo suo ghigno sempre più folle cioè un'intuizione magnifica quella di John Alcott il direttore della fotografia di Shining e di Kubrick stesso e qui invece no cioè abbiamo delle luci che hanno una tonalità più marcata si va più sul giallo su un colore solare cioè non c'entra nulla non c'entra assolutamente niente con quell'ambiente e con l'essenza stessa del film perciò ragazzi questo è un po' quello che penso di Doctor Sleep un film che non funziona che ha tanti problemi di scrittura un film che veramente secondo me tradisce lo spirito dell'opera Kubrickiana e che insomma rappresenta ecco proprio secondo me è un po' il simbolo dei sequel senza senso ecco come non fare un sequel è esattamente Doctor Sleep perciò ragazzi questo è ciò che penso di questo film fatemi sapere che cosa ne pensate se vi è piaciuto se non vi è piaciuto commentate condividete iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti